Diciamo che stamattina ci siamo incontrati con un'iniziativa del tutto originale che ha dato veramente un buon risultato perché ci siamo confrontati con realtà operanti in Sardegna ma anche con realtà provenienti dall'estero e abbiamo visto che insomma si possono fare dei ragionamenti insieme molto interessanti. È chiaro poi che esistono approcci al problema molto diversi, l'idea di cinema da formare, da costruire non è per forza omogenea. Noi pensiamo a un ambito cinematografico che è fatto non più solo del cinema tradizionale delle sale ma riguarda il discorso sull'audiovisivo in generale, pensa alla televisione, pensa ai canali via internet e pensiamo che su questo ci sia molto molto da costruire perché il futuro se non già il presente va su questa strada. Grazie.